Erba alta è stato di abbandono. Sono queste le condizioni nelle quali verse il Giardino della Memoria, villa comunale, sita in Viale Berlinguer a Favara. Nei giorni scorsi è raggiunta alla nostra redazione una segnalazione, con allegate alcune foto, da parte di un cittadino che lamentava la mancata cura del giardino e il mancato lavoro di pulizia dei custodi. Per verificare la veridicità della segnalazione, stamattina la nostra troupe è andata sul posto, confermando quindi quanto segnalatoci. Ecco come si è presentata alle nostre telecamere la villetta inaugurata il 15 marzo 2008 su un'area confiscata alla mafia. L'erba alta c'è, eppure tanta, ma oltre a questa sono state trovate anche cartacce e rifiuti poco civilmente abbandonati sul posto. Pare che sia dall'agosto dell'anno scorso che i custodi del sito attendano che dal comune gli vengano messe a disposizione le attrezzature necessarie per la pulizia e il mantenimento del verde e della villa. Sembrerebbe inoltre che il giardino sia visitato da vandali, soprattutto durante il sabato e la domenica, quando questo rimane chiuso e incustodito. A testimoniarlo sarebbero una panchina rotta ed un pezzo mancante nella persiana della struttura adibita ai custodi. Ancora più gravi sono però le voci secondo cui pare che il giardino, che ricordiamo essere destinato soprattutto allo svago dei più piccoli, sia utilizzato anche da tossicodipendenti. Se confermate, queste voci dovrebbero allarmare le istituzioni. Insomma, la cosa certa è che al momento il Giardino della Memoria ha bisogno di più cura e attenzione. E pertanto invitiamo l'amministrazione comunale a provvedere per pulire e ripristinare alla sua normale utilità la villa, frequentata per lo più da bambini residenti nel quartiere.